Appigliamento Tucori 200 di Michele Cricchio. Specialisti in taglie comode uomo-donna dalla taglia 40 alla 78. Tucori 200 per una donna dalle forme morbide e sensuali. Attenta alla moda e alle ultime tendenze. Morbidi pantaloni dalla vestibilità confortevole si affiancano a jeans perfetti per le tue forme. Tucori 200 per l'uomo che veste taglie forti ma con stile ed eleganza. Da noi anche abiti da cerimonia per i tuoi momenti più importanti. Tucori 200 Corso Tucori 200 a Palermo a 200 metri dalla stazione centrale.